per fare propaganda politica e per azzentire gli avversari politici. E la polemica sulla legge Mancino esplode sullo sfondo del dibattito sugli episodi di violenza nei confronti di immigrati. La cronaca con Vincenzo Frenda. Io lo fermo con i miei amici, ci parliamo anche qualcosa, poi l'ora arrivo, neanche non mi dici, manca un parola, solo esparare. E l'Agi dal letto dell'ospedale ricorda perfettamente i terribili attimi della sparatoria in cui è rimasto ferito ieri sera nei pressi della stazione centrale a Napoli. Due ragazzi sui vent'anni a bordo di uno scooter, casco in testa, si sono fermati davanti a lui e i suoi amici e hanno aperto il fuoco. Sei colpi sparati, solo due sono andati a segno. Uno ha raggiunto l'Agi alla gamba, un altro è stato fermato dal telefonino che teneva la casca. E' questa l'ultima grave aggressione a persone di colore nel nostro paese. Un episodio simile sempre ieri a Pistoia, dove un migrante del Gambia è stato insultato per il colore della sua pelle prima di sentire alcuni colpi d'arma da fuoco, forse sparati da una scacciacani. L'aggressione appena fuori dalla parrocchia di Vico Faro, dove da sempre vengono accolti gruppi di migranti e dove per questo da alcuni mesi il parroco viene bersagliato da insulti. Dure le parole del vescovo Fausto Tardelli che ha detto «Siamo seduti su una polveriera, qui rischia di scoppiare una guerra». E adesso con Simonetta Guidotti vediamo che cosa prevede nel dettaglio la legge Mancino. La normativa condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Punito anche l'utilizzo delle simbologie relative al nazismo e fascismo. Tra i primi effetti della legge ci fu lo scioglimento di un'organizzazione di estrema destra il movimento politico occidentale. In tempi più recenti sono state appoggiate all'architrave della legge le misure contro la violenza e i cori razzisti negli stadi. Per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o istiga a commettere atti di discriminazione, la legge prevede la reclusione fino ad un anno e sei mesi o multe fino a 6.000 euro. C'è invece la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi in qualsiasi modo incita, commette o commette violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Per i critici la legge Mancino sarebbe in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione che garantisce libertà di manifestazione e pensiero. Ma negli ultimi anni c'è stata anche la proposta di estenderla ai reati basati sulla discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La comunità ebraica esprime scoperte.